Sarà un ragazzio molto breve e ci colleghiamo. Buon ascolto. Guardi Agnelli presente, Castagnani e Castellani presente. La seduta è valida, Vice Sindaco. Passo a lei la parola. Benissimo, grazie Segretario. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Approvazione verbale della seduta consigliare del 28 novembre 2022. Mettiamo a votazione chi vota a favore. I presenti sono tutti quanti a favore. Segretario. Benissimo, grazie. Il sindaco deve fare una comunicazione. Ah, scusate. I scurtatori. Fabio Laprincipi, Guardianelli e Marchiani. due, ce ne deve essere. Castagnani. Prego, Sindaco. Grazie Presidente, ma già l'attuale Presidente del Consiglio ha fatto presente a tutti noi l'assenza della Presidente Silvia Giampaoli per motivi di salute non gravi per un'influenza, però che le impedisce di essere qui con noi in questa ultima seduta dell'anno del Consiglio Comunale. Però mi ha chiesto di leggere a tutti i Consigli e ai cittadini questa sua lettera che è importante perché vuole ringraziare tutti coloro che sono stati vicini alla sua famiglia durante la scomparsa del fratello. E quindi sono molto dispiaciuta di non poter presenziare per risolvibili motivi di salute alla seduta di quest'ultimo Consiglio Comunale dell'anno. Data la prematura e recente scomparsa di mio fratello Cristiano, vorrei vivamente ringraziare anche a nome della mia famiglia per le manifestazioni di affetto e di vicinanza che abbiamo ricevuto, il Sindaco, il Segretario Generale, tutti i consiglieri delle liste, Loreto nel cuore, Prima Loreto e Siamo Loreto. I responsabili di settore e i dipendenti tutti comunali, l'attuale Presidente della Fondazione Operalaica Lauretane, Casa Ermesk e l'ex Presidente Tanuni, e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale, e il Presidente e tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti i dipendenti della società multiservizi. Mi corre inoltre l'obbligo di rivolgere un ringraziamento anche a tutto il personale medico e sanitario dell'Hospice di Loreto per la professionalità, la cura e la delicatezza dimostrata in un momento così difficile per me e la mia famiglia. E un ringraziamento davvero di cuore a tutta la cittadinanza per la vicinanza e l'affetto nei nostri confronti. Infine colgo l'occasione per rivolgere a tutti voi un sincero augurio di un buon anno che possa essere foriero di serenità, gratificazioni e gioia e soprattutto dell'essenziale. Il Presidente del Consiglio, Silvia Giampaoli. Tenevo a leggerlo perché mi sembrava giusto riconoscere a Silvia questa sua richiesta. Benissimo, grazie Sindaco. Passiamo al punto 2 all'ordine del giorno. Interrogazione, lista, siamo Loreto. Protocollo 37395 del 12 dicembre 2022. Ad oggetto preoccupante situazione presso la Loreto, molti servizi, società partecipata al 100% dal Comune di Loreto, socio unico, richiesta di chiarimenti in sede di Consiglio Comunale. Prego, chi è che deve giustare? Non so se Cristina, Breni, benissimo. Prego, consigliere Castellani. Grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera ai membri del multiservizi presenti qui in sala, a tutti gli altri consiglieri e a chi ci segue attraverso Radio R e lo streaming. L'interrogazione riporta appunto come oggetto la preoccupante situazione presso la Loreto Multiservizi, società partecipata al 100% dal Comune di Loreto, socio unico, richiesta di chiarimenti in sede di Consiglio Comunale. I sottoscritti consiglieri comunali Castellani Cristina e Gianluca Castagnani. Premesso che la Loreto Multiservizi SRL è una società in house providing, di cui il Comune di Loreto è proprietario al 100%, essendone socio unico. E l'ente locale è tenuto al controllo dello svolgimento dell'operato della società che solo formalmente è autonoma facendo parte concretamente del Comune di Loreto. Premesso ancora che fu costituita come azienda speciale farmacia comunale, quindi divenne farmacia comunale SRL nel 2007. La società successivamente è stata trasformata in Loreto Multiservizi SRL con delibere del Consiglio Comunale rispettivamente 108 e 131 nell'anno 2008. Considerato che la società ha ricevuto nel tempo diversi affidamenti diretti da parte del Comune di Loreto per la gestione di servizi pubblici locali, di cui il primo in assoluto è il servizio di farmacia comunale presso le due sedi a Villa Musone e in tempi più recenti anche a Villa Costantina di Loreto. Alla Loreto Multiservizi sono state affidate le gestioni dei parcheggi pubblici sul territorio, compreso lo scassettamento dei parcometri e la verifica dei ticket, la redazione e la stampa del periodico dell'amministrazione comunale, la gestione dei bagni pubblici comunali. L'attuale organico prevede 16 dipendenti sia con contratti a tempo determinato che di ruolo e l'amministrazione è gestita, per quanto mi risulta, da tre impiegati, mentre diversi sono i liberi professionisti esterni, cosiddetti consulenti, incaricati dello svolgimento di svariate manzioni specialistiche anche con costi rilevanti. Nuove competenze sono state previste con la variazione dello statuto societario avvenuta il 25 maggio 2016 con delibera 13 del Consiglio comunale e lo scorso anno lo statuto ha avuto ulteriori modifiche tra le quali il numero dei consiglieri del Consiglio di amministrazione, portato da 3 a 5 membri, prevedendo la nomina di un rappresentante delle minoranze, attualmente espressione della lista prima Loreto. Tenuto conto che in data 29 giugno 2022, protocollo 19513, la lista civica Siamo Loreto ha presentato una interrogazione nella quale ha segnalato formalmente al Sindaco il fatto che la Loreto Multiservizi risulta non essersi dotata di un programma di protocollazione che consenta l'annotazione in ordine cronologico di tutti i documenti ricevuti o inviati, quindi in entrata in uscita. A ciascuno dei quali attribuire un numero progressivo con relativa data di registrazione e annotazione del mittente o del destinatario a garanzia della trasparenza amministrativa. Tenuto ulteriormente conto che nel corso del Consiglio comunale del primo agosto 2022 il Sindaco ha dato precise rassicurazioni a seguito di incontri con la Presidente e con i consiglieri della Loreto Multiservizi di tutta la loro disponibilità ad effettuare la procedura di protocollazione entro qualche mese. Ad oggi comunque ancora non attivata. Valutato ancora che è di questi giorni la notizia che le organizzazioni sindacali si siano attivate per seguire le problematiche che si sono determinate tra il personale del servizio farmacia, la Presidente e il CDA, minacciando il blocco del lavoro straordinario in assenza di precise risposte sulla situazione, ovvero incarichi, turni, ferie, eccetera. In pratica evidenziando serie carenze organizzative, seppure in presenza di un consulente esterno. Tenuto conto che il regolamento per il controllo analogo delle società partecipate, approvato all'anonimità per la Loreto Multiservizi con delibera numero 100 del 6 dicembre 2016, prevede all'articolo 8 che il Presidente si presenti in sede di Consiglio Comunale a riferire con una relazione almeno una volta l'anno di norma nel mese di marzo, collegata alla chiusura del bilancio dell'anno precedente, ma soprattutto con lo scopo di dare una diretta informazione alla cittadinanza sull'andamento gestionale ed economico finanziario, sull'attuazione degli obiettivi assegnati e raggiunti e delle prospettive future. Tenuto conto che i dati di bilancio vengono di regola forniti al Comune, ma l'assise consigliare è negata un'informazione diretta dalla voce della rappresentante legale della Loreto Multiservizi in quanto la stessa non si presenta in Aula, pertanto ai consiglieri comunali non è permesso fare domande, chiedere chiarimenti, che sia una conferma della trasparenza amministrativa della società. Per quanto si in cui premesso è considerato, i soprascritti consiglieri Castellani e Castagnani chiedono al Sindaco che sia lui stesso, in quanto rappresentante legale del Comune socio unico della Loreto Multiservizi, a riferire in sede di Consiglio Comunale sulle varie proclimatiche non ancora risolte e che si stanno ancora mantenendo tali e ancora di più di tutte quelle che in assenza di scelte di buon senso e di buona amministrazione stanno deteriorando i rapporti della dirigenza con gran parte delle risorse umane in forza alla Loreto Multiservizi. Chiedo un ulteriormente al Sindaco quali concrete e sollecite decisioni intenda prendere per dare una positiva soluzione alle principali situazioni conflittuali presenti alla Multiservizi. Terza quesito, quali siano le motivazioni addotte dalla Presidente della Loreto Multiservizi sul perché non si presenti in Consiglio Comunale una volta almeno l'anno, come previsto dal regolamento per il controllo analogo. 10 dicembre, il protocollo è del 12 dicembre. Allora, nel frattempo abbiamo ricevuto, tutti quanti noi consiglieri, un documento che ci è stato mandato dalla Loreto Multiservizi. Una comunicazione per adempimenti normativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016-679. In sostanza è una comunicazione che informa attraverso il Presidente, il Consiglio di Amministrazione Tutto e quindi a noi consiglieri comunali che c'è una presa di posizione particolare da parte della Multiservizi proprio in materia di privacy, quindi di riservatezza e anche una mappatura dei rischi dal punto di vista informatico e cartaceo di tutti quelli che sono i documenti del facente capo alla Multiservizi. Allora, da una parte, posso anche aggiungere, la metto tra parentesi, perché mentre la Multiservizi è una società per la quale il Comune è socio al 100%, possiamo mettere accanto in un modo un po' diverso la Fondazione Oprelaiche, la quale, è chiaro, è di diritto privato e quindi ha tutta una sua casistica e normativa diversa. Però casualmente anche le opere laiche ha emesso un documento, una circolare interna, cosa di qualche giorno fa, nella quale il segretario della Fondazione Oprelaiche informa i consiglieri che qualora chiedessero copia degli atti, dei documenti, degli atti appunto della Fondazione, questi non saranno forniti automaticamente, perché ci sarà un consulente che valuterà l'opportunità o meno che i documenti della Fondazione siano forniti ai consiglieri. Consiglieri della Fondazione, figuriamoci consiglieri comunali, cioè se dovessimo chiedere gli atti noi, cioè cade il cielo, sicuramente non avremmo informazione. Allora io mi domando, questo atteggiamento così palesemente reticente, a chi giova? A cosa serve? Cioè se la Multiservizi ha nicchiato, perché Sindaco, quando lei qui in Consiglio Comunale aveva preso una precisa posizione dicendo credo che la Multiservizi prestissimo provvederà a implementare il servizio di protocollazione, qualche giorno dopo, non più di tanto, il 15 d'agosto, uscì un articolo in cui la Multiservizi non diceva quello che lei aveva sostenuto qui, anzi tutto sommato la sconfessava, perché diceva che il protocollo sarebbe stato implementato solo in presenza di una risposta di tale positiva, quindi che gli dicesse che l'avrebbe dovuto mettere in essere, da parte dell'ANAC. Quindi l'ente anticorruzione, cioè la società che sta a dirimere una questione molto delicata, cioè non ha detto protocolliamo perché siamo tranquilli, qualsiasi cosa entra e qualsiasi cosa esce risulta, viene registrata. No, chiederemo se proprio siamo obbligati. Lei sindaco non aveva detto questo, effettivamente disse un'altra cosa. Poi le posso dire, personalmente, anzi non personalmente, come capogruppo mi sono permessa di scrivere all'ANAC anch'io chiedendo un parere sull'assenza di protocollazione alla Loreto Multiservizi, visto mai che fosse stato detto e non fatto. A parte questo, andiamo avanti. La problematica grossa è quella della farmacia. Perché è una problematica grossa? Perché il personale ha dovuto chiamare i sindacati. Cioè, quando il personale chiama i sindacati, significa che la comunicazione non c'è. Cioè le esigenze di quelle che sono chiamate risorse umane, che è un termine orrendo, ma che corrisponde agli operatori che rendono possibile le attività di una multiservizi, la mancanza di comunicazione non è un bel esempio di gestione, non è un bel esempio di come ci si deve rapportare con i dipendenti e con le persone che lavorano per te. Quindi la presenza del sindacato è una lampadina che lampeggia, che ci deve mettere in allarme. Perché il personale della farmacia ha problematiche? Perché il numero è ridotto? Perché il personale che lavora non trova probabilmente quegli spazi, quelle soddisfazioni e quei tempi che dovrebbero essergli garantiti? Abbiamo visto che addirittura gli orari della farmacia sono stati ridotti, dell'apertura al pubblico, abbiamo anche sentito che in molti si sono lamentati, perché giustamente un servizio fornito ad orario continuato è un servizio costoso, oneroso, però è molto di qualità, perché chi ha necessità di andare in farmacia non è che sta lì con l'orologio e dice ah beh a quest'ora trovo chiuso, trovo aperto, vado, vado nella farmacia che trovo aperta. Quindi presumo che anche le scelte aziendali debbano in qualche modo valutare anche queste cose, cioè il cliente, l'utente, tutti i termini anche questi non estremamente brillanti, però quelli che si rivolgono alla farmacia della multiservizi devono riceverlo questo servizio, a maggior ragione essendo espressione della municipalità. Non è un privato, non è una farmacia privata, è la farmacia del comune. Quindi direi che quello di scegliere e di avere un buon rapporto con i dipendenti, ascoltarli, sentirne le esigenze e mantenere l'apertura continuativa, siano scelte fondamentali. Io credo che, questa sera non c'è la Presidente, però credo che la Presidente di fronte ai sindacati possa avere espresso un suo parere che era quello appunto che forse economicamente il peso è troppo per la multiservizi. Però non è che la multiservizi deve fare grosse economie per poi dare i soldi al comune, cioè voglio dire, ci va bene se ci sono degli utili e rimangono per il comune, però fondamentale è che ci sia un buon servizio, è questo più importante, se no perdiamo anche di senso e di qualità. Quindi l'interrogazione che io pensavo avessi in qualche modo come referente il primo cittadino che è socio unico, se invece i consiglieri hanno piacere di essere loro, vorrei solo, prima di smettere di parlare, sottolineare quello che è il regolamento per il controllo analogo. E' un documento molto importante. Io non sono certa che sia noto. Perché? Viene detto, chi effettua il controllo? Allora, innanzitutto le finalità del controllo analogo. Le finalità consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente alla produzione e l'erogazione dei servizi pubblici locali ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale. E' detto in bellissime parole, ma mi pare che sia sostanzialmente quello che ho sostenuto poco fa io. Poi esiste un'altra cosa importante. Il controllo analogo effettuato dal Comune di Loreto, almeno di due tipi, viene detto nel regolamento, giuridico, contabile e sulla qualità dei servizi erogati. E anche questo mi sembra di averlo detto. Allora, i soggetti coinvolti nell'esercizio del controllo analogo sono i responsabili del primo settore, i responsabili del quinto settore, ciascun responsabile del settore competente nelle varie materie, il sindaco, nelle sue vesti di capo dell'amministrazione, rappresentante legale dell'ente e il soggetto che istituzionalmente esercita i diritti di socio. Poi sapete chi? Il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale è la competente commissione comunale nelle attività di controllo e di indirizzo. Questo c'è scritto nel regolamento. Questo c'è scritto. E poi c'è anche scritto che entro il 30 dicembre di ogni anno le società presentano al Comune di Loreto un budget previsionare per l'anno successivo, eccetera. E entro il 30 marzo di ciascun anno le società in house, in particolare la multiservizi, perché questo noi l'abbiamo deliberato per la multiservizi, relazionano al Consiglio Comunale sull'andamento gestionale, economico, finanziario dell'anno precedente, sull'attuazione degli obiettivi assegnati e con le modalità indicate al successivo articolo 8. Andiamo all'articolo 8. Bene. Gli organi amministrativi delle società hanno obbligo di collaborare con il Consiglio Comunale, con la Commissione Consiliare, per il miglior perseguimento dell'interesse pubblico, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità. Non c'era bisogno che facessimo un'interrogazione. Non c'era bisogno. Non c'era bisogno nemmeno che sul giornale, sul giornalino, il periodico comunale, dovessimo arrivare così, ironicamente a dire, partecipare al Consiglio Comunale mette paura. non dovevamo arrivarci, perché doveva essere prassi normale che la multiservizi, presidente o suo delegato, si presentasse, relazionasse, ci facesse sapere, ci consentisse di chiedere, ci consentisse di chiedere, non soltanto perché sollecitati, prassi normale. Il Consiglio Comunale, e non è solo il sindaco in quanto socio, per regolamento è il Consiglio Comunale. Posso anche fermarmi qui. Grazie. Grazie, Capogruppo Castellani. Prego, sindaco, a lei la parola. Grazie. Intanto, come sempre, io credo sia giusto ringraziare tutti i consiglieri che fanno le interrogazioni, perché sicuramente stimolano e ci fanno attenzionare le varie situazioni che ritengono da verificare, quindi in questo caso anche il consigliere, la Capogruppo Castellani, il consigliere Castagnari. Naturalmente, essendo una interrogazione molto articolata nelle sue varie letture, nelle sue varie fasi, abbiamo ritenuto come amministrazione comunale giusto, in questo caso specifico, di chiedere alla Presidente del Consiglio di invitare a partecipare a questo Consiglio Comunale per poter poi, naturalmente, entrare più facilmente, più direttamente, nello specifico, la Presidente e il Consiglio della Multiservizi, perché credo che sia giusto non rispondere, ma soprattutto cercare di entrare nello specifico, nelle specifiche della stessa interrogazione, proprio per dare sempre quella giusta trasparenza, quella giusta chiarezza che i cittadini vogliono da tutti noi. Allora, Presidente, chiedo a te la possibilità di invitare, quindi non so se dovremmo votare l'ingresso in aula, questo lo direte voi, dei consiglieri o chi per loro, la Presidente purtroppo oggi non potrà essere qui con noi, anche lei per motivi di salute naturalmente legate a questo periodo di influenza e quant'altro, però credo che, vedo che è presente, vi ringrazio per la presenza di tutto il consiglio di amministrazione a dimostrazione che è importante questa giusta collaborazione tra il consiglio comunale in questo caso e l'amministrazione ma con l'ente che noi abbiamo come controllata. Prendo atto, Cristina, anche di questa tua segnalazione che hai fatto qui in consiglio per quello che riguarda quest'ulteriore passaggio che avviene all'interno della Fondazione Opere Laiche non ne ero a conoscenza, credo che sia giusto che il sindaco su questa segnalazione chieda chiarimenti al Presidente e a tutto il consiglio della fondazione perché il messaggio che parte sicuramente al di là che sappiamo bene che è una fondazione di diritto privato e quant'altro poi è una fondazione di diritto privato ma con un'evidenza fortemente diciamo legata al territorio e soprattutto ai cittadini loretani. Allora ecco su questo nei prossimi giorni sarà mia premura chiedere una nota fare una nota al Presidente per capire le motivazioni potrebbero esserci delle motivazioni importanti e quindi capire quali sono state le motivazioni che hanno portato l'ente a stringere ancora questo meccanismo di trasparenza soprattutto con i consiglieri del consiglio d'amministrazione perché credo che significhi che non ci sia come dire il giusto riconoscimento il giusto rispetto dei consiglieri stessi al di là poi dei consiglieri comunali che dovrebbero comunque avere possibilità di accesso quindi ecco questo segretario sarà nostra premura mia premura a far chiedere a questo al consiglio questo al consiglio della fondazione per lai che il perché di questo percorso fatto anche se chiaramente possono anche risponderci non vi diciamo il perché però credo che conoscendoli sicuramente daranno una risposta o perlomeno faranno capire al consiglio tutto e alla cittadinanza quelle motivazioni quindi ecco presidente credo che sia giusto per poter come dire intervenire sull'interrogazione fatta invitare un rappresentante o a rotazione i rappresentanti qui presenti del consiglio di amministrazione per poter come dire far capire a tutti noi alla cittadinanza quali sono state le motivazioni ma soprattutto qual è il percorso che il consiglio di amministrazione della molti servizi ha voluto e vuole intraprendere per dare sempre questo segnale di massima efficienza e trasparenza prego benissimo sindaco grazie abbiamo ciato edottato prego capogruppo chiedo scusa allora dal punto di vista istituzionale è una interrogazione giusto quindi sono solo io in quanto relatrice l'unica che può rispondere nessun altro allora diciamo questo che qualora fossero più consiglieri a dover a dare invece risposte sì però un attimo rendiamoci conto tutti cioè è un'occasione con la presenza di tutti i consiglieri la domanda l'ha fatta solo la capogruppo cioè se gli altri consiglieri avessero domande da fare cioè poniamocelo un attimo visto che dobbiamo comunque abilitarli a rispondere giusto poniamoci un attimo la problematica e cerchiamo di capirci scusa no soltanto per dire che chiaramente qui è una risposta all'interrogazione poi vedremo se però prendo proprio lo spunto capogruppo Castellani per ribadire e dire che l'impegno lo prendo come sindaco che entro marzo il consiglio del multiservizio al di là della presenza di oggi sarà invitato a fare una relazione complessiva come è giusto e rispettoso del nostro regolamento quindi penso che da parte della multiservizi non ci saranno problemi affinché a marzo entro marzo aprile possa essere svolta questo percorso che riteniamo sempre giusto e importante benissimo grazie sindaco però essendo un'interrogazione segretario e risponde poi chi viene interrogato quindi il sindaco sì sì adesso il cda qualcuno del cda prende la parola e risponde all'interrogazione del del capogruppo la replica da parte del capogruppo che ha fatto l'interrogazione c'è perché per sapere se è soddisfatto oppure no della risposta che ha dato o il cda o comunque il sindaco non ci sono problemi ma Marchiani prego una precisazione buonasera a tutti e rifacendomi a quello che giustamente ci fa osservare la capogruppo Castellani e riteniamo più opportuno che trattasi sì di interrogazione un po' particolare ecco perché giustamente è stato coinvolto il consiglio di amministrazione della multiservizi però riteniamo opportuno che nei limiti del possibile si mantenga quanto stabilito dal regolamento nel senso un proponente l'interrogazione una persona che risponde e poi il preponente che dichiara se è soddisfatto o meno dell'interrogazione stop fine benissimo capogruppo condividiamo perché poi scusa scusate sento sento ben con Michele perché il consiglio nostro del CdA siamo in cinque e ognuno è preposto per ogni ambito quindi si chiede eventualmente per ogni ambito nel campo farmacia che è quello più importante penso stasera nel campo dei parcheggi e bagni cioè a dire nel campo della sicurezza informatica e quant'altro quindi ognuno di noi quindi se è possibile intervenire diciamo non lo so oppure io inizio poi vediamo se è sufficiente oppure no allora da quello che ho capito nell'interrogazione capogruppo Castellani mi correga se ho capito male fondamentalmente il nocciolo dell'interrogazione è tutta la problematica relativa alla farmacia e il discorso della protocollazione sì l'interrogazione è questa quindi adesso non so se il consigliere chiederà a parlare del CDA della inizio io dopo eh sì il consigliere Santoro prego allora buonasera a tutti buonasera sindaco buonasera segretario buonasera consigliere porto i saluti del presidente in quanto come sapete è ammalata io inizio a rispondere consigliere Castellani punto per punto all'interrogazione da lei esposta perché ci sono ci sono c'è qualche diciamo perplessità nel punto dove lei dice che all'oretto molti servizi sono stati affidati le gestioni dei parcheggi pubblici sul territorio lei ha messo anche la redazione e questo non è vero perché c'è un comitato di redazione che effettua il giornalino noi abbiamo solamente il contratto con la responsabile la Tiziana Petrini che è a nostro carico però noi non abbiamo la redazione abbiamo la distribuzione del giornalino punto uno io a 58 anni è la prima volta che mi espongo qui perdonatemi se però la sostanza è quello che conta forse con l'esperienza prima e poi non lo so però perdonatemi se non sono tanto preciso per quanto riguarda sempre il periodico comunale abbiamo quest'anno nel 2022 incrementato a livello pubblicitario quindi diminuendo i costi fissi del giornalino abbiamo incrementato circa di 6.305 euro la pubblicità quindi abbassando il costo il costo vivo del giornalino poi lei dice che l'attuale organico prevede 16 dipendenti sia con contratto a tempo determinato che di ruolo e l'amministrazione gestita da altri impiegati probabilmente lei avrà visto la visura camerale vecchia data perché lei ha visto quella del 23 aprile 2021 dove si indicava 16 dipendenti e 3 amministratori invece quella giornata al 2912 che è quella esatta al 30 settembre ci sono 15 dipendenti e 2 impiegati e 5 amministratori poi per quanto riguarda i libri professionisti sì l'amulti servizi si avvale dei diversi professionisti che per trasparenza indico così abbiamo la dottoressa simona simona tomassetti che è una consulente contabile se interessa posso dire anche il compenso tanto è pubblico però no va bene è pubblico non è interessante poi alla fine perché lei ha citato io voglio elencare solamente le cose che lei ha scritto che potrebbero essere inesatte secondo noi poi veniamo al dunque della farmacia delle organizzazioni sindacali e quant'altro nel punto dove lei dice della modifica dello statuto del 2016 che da tre componenti sono a guata 5 noi non possiamo fare altro che ratificare la decisione del sindaco è una decisione che perde il sindaco quindi da parte nostra è sì però se no no io io rispondo io rispondo da parte della multiservizi consigliere con non poi nel punto dove dice che non ci siamo dotati di un programma di protocollazione che consenta l'annotazione io qui ho la copia firmata il 13 dicembre dove noi abbiamo attivato ancora non perfezionato il sistema di protocollo è andato un po' alla lunga il consigliere Castellani perché abbiamo dovuto trovare cinque preventivi come lei sa perché non possiamo nominarne uno abbiamo scelto un programma che ci permetta di 8 giga che prevede che prevede la protocollazione della PEC e poi in secondo luogo di seguito la conservazione a norma la digitalizzazione di tutta la documentazione a gennaio partiranno i corsi per i dipendenti quindi credo e penso che per fine gennaio massimo febbraio saremo in regola questa è la copia che ci siamo attivati in data 13 dicembre poi per quanto riguarda e di questi giorni la notizia che le organizzazioni sindacali si siano attivate per seguire problematiche a me guardi consigliere comunale consigliere Castellani a me sembra che dove ecco qua noi abbiamo abbiamo responsabilizzato le due direttrici la Cegarini e la Diodovic affinché sono autonome per redigere i turni gli orari le ferie perché se si vuole crescere bisogna che sia di danno delle responsabilità quindi incolpare noi il CDA affinché ci sono delle problematiche a livello a livello di turni secondo me è una cosa inesatta da dire perché se ci sono dei problemi organizzativi di ferie di orari quando loro stessi ma non dico che è loro colpa perché non siamo tutti bravi però non si deve incolpare al CDA la disorganizzazione degli orari ripeto quando sono loro che svolgono questi compiti poi per quanto riguarda le organizzazioni sindacali io sono abituato purtroppo che quando parlo sto a sentire per quanto riguarda le organizzazioni sindacali consigliere Castellani le giuro che noi stiamo in stretto contatto siamo stati noi a chiamare le organizzazioni sindacali non che le organizzazioni sindacali hanno effettuato la propria azione per conto di loro perché credo che collaborando si trova una soluzione io sono sicuro che da parte dei dipendenti delle farmaciste ci sono dei problemi ci sono però veniamo da un periodo bruttissimo dove loro hanno dovuto sopportare l'inverosimile il covid lo sappiamo tutti cosa ha portato e quindi quello che a me dà fastidio è che si incolpi noi consigliere Castellani ripeto abbiamo fatto di tutto abbiamo scorso tre volte il concorso abbiamo telefonato a tutte le associazioni di categorie la Cicabini è presente perché c'era pure lei abbiamo chiamato diciamo l'ordine dei farmacisti di Macerata di Ancona quindi ci siamo attivati all'inverosimile per raccontentarle purtroppo c'è mancanza di farmacisti però dobbiamo andare avanti lo stesso quindi la mia veramente dispiace a me dispiace che la colpa ci viene addettata per questo per carità chi comanda ha la colpa però le garantisco che abbiamo fatto di tutto per raccontentarle perché io questa è una cosa personale mia se i dipendenti stanno bene stanno bene tutti ok io ho 20 anni che ho dipendenti quindi lo penso veramente davvero quindi però ci siamo impossibili le avevamo trovate purtroppo erano assunte quindi nel momento in un momento difficile non è stato possibile perché si doveva stare di dietro ad imparare non c'era tempo pertanto si chiede la collaborazione non è vero che abbiamo minacciato blocchi dei straordinari assolutamente perché siamo lì presente la Cegarini in un colloquio ad aiutateci in un momento particolare quindi adesso gli esempi possono essere stancanti però lo Stato diciamo che abbiamo fatto di tutto per raccontentare i dipendenti delle farmacie sia Villa Costantina che soprattutto Villa Musone io ho votato contrario ma lo dire pubblico sull'interruzione della Villa Costantina ma perché l'abbiamo fatto per su loro richiesta su loro richiesta perché si pensava che l'interruzione potesse aiutare avere qualche orario in più invece no non è però la sostanza è che a malincuore però il CDA si sta veramente adoperando per accontentare le farmaciste per quanto riguarda io se qualcun altro consigliere vuole replicare qualcosa io sarei contento prego scusi devo dire il numero il nome scusi il consigliere del CDA della Multiservizi ma Manzotti prego grazie io mi presento sono appunto non ci sarebbe neanche bisogno Ferdinando Manzotti consigliere della Multiservizi delegato alla farmacia forse sentite meglio delegato alle farmacie e quindi visto che il nocciolo della questione serale perlomeno la parte più significativa è quella relativa alla alle lamentazioni relativa alla farmacia mi permetto di fare alcune considerazioni allora parto da quello che lei ha detto relativamente alla mancata comprensione da parte sua della reticenza da parte della Multiservizi a fornire indicazioni a fornire documentazione relativa all'attività amministrativa posta in essere ora questo non appartiene al vero perché trimestralmente la Multiservizi relaziona al sindaco inviando una serie di documentazione che il sindaco possiede e il sindaco parallelamente viene alla Multiservizi per l'approvazione dei bilanci preventivo e bilancio provvisorio in relazione a questo non mi si può venire a dire l'articolo 8 riferita alla Multiservizi l'articolo 8 è del comune la Multiservizi non ha recepito l'articolo 8 e in ogni caso in ogni caso noi non abbiamo difficoltà qualora invitati a venire a relazionare in comune noi siamo qui perché amiamo Loreto consigliere Castellani perché io benché sia stato poco a Loreto conosco l'amore che mio padre i miei genitori hanno avuto per la città ed è per questo che ci tengo e con orgoglio porto offro la mia collaborazione perché Loreto possa rimanere non andare indietro rimanere quella che era quella che ci hanno quella che abbiamo ereditato non so se nel passato prossimo cioè la la precedente amministrazione della molti servizi sia venuta mai in consiglio comunale e se lei in precedenza se ci è venuta probabilmente è stata invitata noi non siamo stati invitati c'era anche il problema questa sera di parlare se se potevamo non prendere la parola in uno più d'uno insomma se uno vuole sapere le cose noi siamo qui per relazionare siamo quindi il motivo della reticenza altrimenti per il filo del discorso il motivo della reticenza dovrebbe saperlo benissimo consigliere il motivo della reticenza è una reticenza unicamente nei suoi confronti e le dico il motivo lei è stata l'unica ad avere accesso ai documenti della molti servizi e le abbiamo fornito la documentazione richiesta la documentazione richiesta era una documentazione importante perché si riferiva a una afferente un dipendente che era stato licenziato e in periodo in pieno periodo di licenziamento e quindi in periodo in cui c'era un contatto presente la società molti servizi io non c'ero in quel periodo non era ancora stato nominato però mi è stato mostrato un documento che è inconfondibile perché contenente delle cancellature con il pennarello che purtroppo Castellani abbiamo rinvenuto nel fascicolo processuale della nostra controparte e questo documento lo ha soltanto lei in mano quindi io non dico che lei l'abbia fornito alla nostra controparte però dico che comunque ne ha fatto un cattivo utilizzo non l'ha custodito secondo Manzotti abbassi un pochettino la voce grazie scusi l'età sono un po' so perché mi diceva che non sentiva chiedo scusa prego prego continuo non sono abituato e quindi questo è un motivo soltanto perché chiunque consigliere comunali ma se vogliamo anche i cittadini vogliono avere accesso alla documentazione l'uno lo fa nella qualifica e quindi seguendo un determinato percorso l'altro il cittadino lo potrebbe fare come semplice istanza magari sulla distribuzione del giornalino se fatti in un certo modo in un altro non avremmo difficoltà a rispondere ora lei dice continua il suo discorso dicendo sa è un campanello di allarme quando interviene un sindacato ma ci rendiamo conto della gravità dell'affermazione cioè interviene un sindacato no l'aspetto democratico cioè io prego sindaco credo che sto rispondendo per diseguamente quello che il consigliere ha detto però secondo me cerchiamo di dare una risposta che non sia sì ma la risposta se mi si dice se mi si dice che viene il sindacato e quindi c'è un malessere il sindacato non c'è un malessere è una forma democratica di intervento che viene in soccorso del personale personale noi abbiamo nove farmacisti in totale all'interno di entrambe le farmacie nove farmacisti purtroppo alla fine del mese di novembre uno di loro si è dimesso e tre di loro due erano sono andati in maternità e due di loro erano in malattia quindi con meno cinque farmacisti con quattro farmacisti abbiamo garantito il servizio a tutta la città diminuendo soltanto di tre ore la chiusura di Villa Costantina per sua scienza le dico che nell'ultimo anno c'è stato un incremento del 15% del reddito per ciascuna delle due farmacie e se questo è a suo parere un modo di gestire disorganizzato io preferisco un modo disorganizzato piuttosto che un modo organizzato come quello che faceva a cui lei faceva riferimento delle opere laiche che è costretta a vendere il proprio patrimonio per far quadrare i bilanci e lì lei ha un suo consigliere da ultimo dico soltanto questo lei ha fatto accenno al controllo analogo il controllo analogo avrebbe dovuto segnalare quelle che sono le difficoltà che non sono solo quelle di avere accesso alla documentazione questa non è una difficoltà questa è una difficoltà sua che le ho spiegato per quale motivo è accaduta ed è fonte di vergogna quello che ho detto lato senso lei di censure non ne ha sollevata alcuna rispetto alle farmacie rispetto né ha deputato il consiglio che dice non ci sarebbe stata necessità trovo giusto questo neanche di un'interrogazione perché è il consiglio comunale che deve stabilire se ci sono dei rilievi da formulare in danno della società controllata a me non sembra che ci possano essere abbiamo anche ci siamo attrezzati con questionari di gradimento addirittura all'interno dei dei cessi con questionari di gradimento e lo abbiamo fatto in farmacia e abbiamo riscontrato una positività ma ciò che maggiormente rileva torno a ripetere è l'andamento della multiservizi ora la cosa che dispiace e dico per concludere è che se noi tutti siamo qui per l'amore della nostra città non è giusto svilire l'attività di chi si prodiga per collaborare per la buona amministrazione rispetto a chi ci fa perdere tempo per questioni di importanza di nessuna rilevanza posto che come lei ha concluso l'interrogazione non era necessaria se lei ci deve fare delle domande dei quesiti noi siamo pronti a rispondere la multiservizi è pienamente inattivo noi di solito quando si fanno gli auguri di fine anno si dice che il prossimo anno sia migliore noi alla multiservizi quest'anno abbiamo detto speriamo che il prossimo anno sia almeno come quello che abbiamo trascorso ricco di soddisfazioni per il nostro lavoro che pare non essere apprezzato ma spero soltanto da lei grazie signor Manzotti do la parola al sindaco e poi al capogruppo Castellani prego signor sindaco però io credo che al di là delle risposte che sono state date lo dico in senso generale i consiglieri tutti maggioranza e opposizione naturalmente possono fare le interrogazioni ordini del giorno a tutti i livelli cioè per quello che riguarda il territorio per quello che riguarda anche le situazioni di rilevanza nazionale possono essere effettuate mozioni ordini del giorno e interrogazioni ecco per dire che un consigliere legittimamente sempre può proprio per svolgere le proprie competenze dei consiglieri può fare interrogazioni che ritengono opportune quindi in questo caso la capogruppo ha ritenuto dover sollevare voler una problematica che secondo la capogruppo era così da attenzionare e quindi oggi la vostra presenza e quindi da questo punto vi ringrazio perché perlomeno su alcune questioni avete fatto chiarezza e quindi ecco è opportuno che sempre e lo dico oggi che sono in maggioranza ma l'ho detto anche quando ero al posto vostro in minoranza in opposizione i consiglieri possono legittimamente fare l'interrogazione a tutto tondo a 360 gradi quindi naturalmente in questo caso è legittimamente stata fatta l'interrogazione ecco ritorno poi lascio la parola alla capogruppo perché giustamente per le valutazioni però ecco l'impegno rimane che entro marzo il consiglio presenterà una proposta nella generalità dell'attività della multiservizi benissimo grazie sindaco prego capogruppo Castellani per la repugna grazie grazie presidente consigliere Manzotti non credevo di averle fatto sollecitato così tanto non credevo di averle fatto perdere tempo non ci pensavo proprio perché vede stare consigliere comunale è un'altra cosa di essere nominato perché quando si è consigliere comunale si riceve il consenso dei cittadini quando si è nominato si ha la fiducia di chi ti nomina è un ruolo un po' diverso anche se ognuno lo fa con la massima disponibilità buona volontà attenzione è leggermente diverso mi pregio di sottolinearlo quindi non credo di averle più di tanto fatto perdere tempo comunque giusto per puntualizzare allora il vicepresidente ha sottolineato le cose che gli sembravano non perfettamente corrette allora la redazione non significa che c'è un consiglio di redazione alla multiservizi perché il consiglio di redazione è fatto di persone esterne ne abbiamo anche una rappresentante nostra Michela vabbè senza fare i nomi perché poi i nomi sono scortesissimi mi spiace anche che siano stati utilizzati perché le persone non sono presenti citare i nomi di persone non presenti non è mai una cosa molto ben fatta però si possono utilizzare perifrasi per potersi spiegare bene lo stesso quindi redazione non significava avere nella multiservizi un comitato di redazione significava come sta scritto nel documento che dopo voteremo nella razionalizzazione periodica delle partecipate predisposizione e stampa di giornalino periodico comunale informazione di pubblico interesse questo è un'attività connessa alla multiservizi tutto qui quindi forse c'è stato un malinteso a parte questo per quanto riguarda il fatto personale consigliere non è stato molto elegante perché quando io ho fatto richiesta di accesso agli atti quella richiesta è nata nel 2021 a ottobre bene l'ho richiesti non c'è protocollazione e lei non può sapere se oltre a me qualcun altro li ha presi questi documenti è molto disonesto quello che lei ha detto perché no no non importa quello che ha detto allora signor Romanzotti scusi intanto non la sentono quindi per favore scusi allora allora io ho ricevuto minacce dalla multiservizi io ho ricevuto minacce dalla multiservizi va bene dove sono stata accusata di avere fatto un uso scorretto di documenti ricevuti i documenti che ho ricevuti eh per quanto riguarda il rispetto della riservatezza erano tutti cassati segretario erano così bene non li avrei dovuti ricevere così giusto? un attimo abbia pazienza come li ho ricevuti io li poteva aver ricevuti chiunque in assenza di protocollazione signor Manzotti scusi no sta replicando per favore no 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 signor Manzotti per favore per favore per favore prego Castellani capogruppo Castellani volevo solo dire volevo solo dire sì però per favore chiedo scusa prego capogruppo grazie presidente voglio dire che la protocollazione è una garanzia per chiunque per chiunque in primis alla molti servizi perché se la molti servizi avesse avuto un numero di protocollo su questi verbali delle prime sedute del consiglio che mi sono stati passati poteva essere attestato inequivocabilmente che nessun altro le potesse avere avute comunque torno al regolamento per il controllo analogo questo regolamento noi l'abbiamo votato esattamente nella seduta del 6 dicembre 2016 con atto di consiglio comunale espressamente per la multiservizi non genericamente espressamente e c'è nel verbale se si fosse preso la briga qualcuno di vederlo l'avrebbe potuto verificare non è stata deliberato generico espressamente per la Loreto multiservizi era segretario comunale Francesco Maria Nocelli presidente Scriboni comunque era l'anno 2016 correva l'anno 2016 non è grave se si chiamano i sindacati non è grave perché i sindacati ci stanno apposta a difendere il personale ma non l'ho definita una cosa grave ho solo detto ho solo detto che se si arriva a trattare attraverso i sindacati una questione significa che non c'è comunicazione mi sono permessa di fare questo tipo di valutazione non credo di aver detto siete laggiù non sapete fare ho detto forse la comunicazione è carente allora il bilancio è molto positivo benissimo allora mettete dentro più farmaciste possibili così riaprite al pubblico anche gli altri orari chiedete anche oltre le province non saranno il bando capace vengono anche da fuori provincia non è necessariamente macerate Ancona provateci il servizio d'altra parte è utile ai cittadini quindi il bilancio in più va benissimo il fatto di essere invitati allora sulla base del regolamento per il controllo analogo non c'è invito c'è una considerazione che fa sì che oltre a presentare i bilanci al settore dove c'è la dottoressa Bucchi oltre a presentare i bilanci si presentano le relazioni che sono esplicative che sono discorsive che sono di chiarezza e vanno fatte entro il 30 di marzo il 30 marzo nessuno l'ha fatto per la multiservizi oggi siamo al 30 di dicembre mi fa molto piacere vicepresidente che il 13 dicembre voi abbiate firmato un contratto di fornitura del nuovo programma di protocollazione e viva guarda caso la mia la nostra interrogazione era datata 12 quindi al 12 ancora non c'era quindi è avvenuta il giorno dopo è stato quasi un mezzo miracolo certo va benissimo va benissimo i professionisti allora non volevo sapere i nomi non volevamo sapere i nomi ovviamente però il ricorso alle professionisti esterni dovremmo capire come vengono reclutati quanto chiedono perché cosa la funzionalità cioè sono ruoli molto delicati vogliamo tornare alle opere laiche le opere laiche prende anche lei consulenti ma lei è privata alla fine lo veniamo a sapere per caso veniamo a sapere che c'è un consulente nuovo nuovo per la legalità si vede che serviva anche quello alle opere laiche però la multiservizi se ne serve molto se ne serve molto al punto che forse potrebbe avere anche risorse di personale interno perché non è detto che i consulenti esterni siano poi sempre così necessari sono ipotesi sono idee poi è chiaro che però il ruolo del consiglio comunale nei confronti della multiservizi è un ruolo di dialogo mi permetto di chiudere dicendo riportando una espressione del presidente del consiglio nella conferenza stampa di ieri ha usato queste parole quando gli approcci delle opposizioni non sono pregiudiziali possono portare buone idee e proposte utili l'interrogazione era questa l'interrogazione era una proposta utile grazie benissimo grazie capogruppo passiamo al punto numero 3 dell'ordine del giorno ricognizione periodica delle partecipate pubbliche ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge legislativo del 19 08 2016 numero 175 come modificato dal decreto legislativo del 16 06 2017 numero 100 al 31 12 2021 prego a assessore Tampani per l'illustrazione del punto assessore se può digitare che non vedo no non si vede provi sulla sulla schiavoni niente 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 non lo si riprova assessore niente purtroppo eventualmente prendiamo il microfono perché non funziona se può provare un altro consigliere comunale niente da questa parte non funziona nessuno no nessuno no proprio non ci vediamo signor Manzotti auguri di buon di buon prova uno due tre benissimo assessore Tampani grazie presidente buonasera a tutti è un atto dovuto entro la fine dell'anno è la ricognizione periodica che vengono fatte delle partecipate è una cosa velocissima allora le nostre partecipate sono praticamente quattro di cui una come ampiamente discusso nel punto prima è controllata al 100% che è la multiservizi con un capitale sociale di 520 mila euro e un'altra è l'acquedotto del nera con un capitale sociale di 15 milioni di euro e abbiamo il 2,922% il Cosmari capitale sociale di 11 milioni e 440 mila euro abbiamo una percentuale pari al 3,84% e l'ultima il centro Marche Acqua di un capitale sociale di 2 milioni e 10 mila euro dove abbiamo una percentuale del 4,64% non è cambiato nulla dagli anni passati e questo è quanto era dovuto benissimo grazie assessore Tampani chi deve parlare adesso nessuno deve prendere la parola con il capogruppo albanesi purtroppo pure lei il capogruppo albanesi non forse la capogruppo Castellani non funziona neanche quello suo adesso l'ha tolta la parola a me a Tampani quindi dura poco no prego capogruppo allora no la mia è solo una richiesta di informazione per quanto riguarda la multiservizi che avevo un dubbio e chiedo al segretario se può chiarirlo allora noi abbiamo utilizzato più volte la sponsorizzazione quest'anno come modo per elargire fondi dalla multiservizi del comune di Loreto io le chiedo questo se io perché ho qualche dubbio se per lei questo è diciamo legale è possibile da utilizzare in quanto la multiservizi è una partecipata al 100% lavora solo ed esclusivamente per il comune di Loreto la sponsorizzazione viene fatta nei casi che serve la pubblicità quindi una società privata che si vuole fare pubblicità sponsorizza un evento sponsorizza un'altra associazione io chiedevo proprio se l'utilizzo della sponsorizzazione in questo caso sia una forma corretta oppure no perché darebbe un po' l'occhio in questo caso se fosse fatto da un privato perché fornitore unico cliente unico è un po' strano che tipo di pubblicità devo farmi cioè chiedo a lei se è compatibile questo utilizzo della sponsorizzazione grazie grazie capogruppo albanesi aveva chiesto sì allora prego segretario grazie innanzitutto per la domanda che mi permette di fare un breve escursus sul ragion d'essere di una società partecipata e quindi il mio discorso assume i caratteri della generalità prescindendo dalla singola fattispecie che riguarda la Loreto Multiservizi è una società partecipata a ragion d'essere partecipata anzi in questo caso controllata al 100% a ragion d'essere nella misura in cui riesca ad essere più efficiente del mercato quindi a fornire al socio unico pubblico servizi in alcuni casi tassativamente previsti dalla legge anche lavori pubblici ma prevalentemente servizi ad un prezzo a delle condizioni migliorative rispetto a quelle che offre il mercato e non lo dico io lo dice l'articolo 192 del codice dei contratti pubblici che per carità sto anche banalizzando in questo momento però il concetto in parole povere è proprio questo qui e di conseguenza se una società multiservizi riesce ad ottenere un livello di efficienza tale parametrato al mercato da avere utili sufficienti da poter effettuare una sponsorizzazione se questa sponsorizzazione mi riferisco al procedimento che viene posto in essere dall'ente comunale rispecchia la normativa sempre di cui ha il codice dei contratti ora se non erro l'articolo 19 potrei sbagliarmi non ce l'ho sulla punta delle dita in questo quadro di efficienza parametrata quanto offre il mercato anche una sponsorizzazione potrebbe assumere i connotati della piena legittimità ovviamente io mi riservo nello specifico di approfondire il quesito che è molto interessante che mi ha posto il consigliere Albanesi e di fornirgli una risposta scritta con dovizia di particolari e con i corretti referenti normativi grazie presidente benissimo grazie segretario adesso funziona prego capogruppo Castellani prego grazie presidente il quesito è un'altra volta per il nostro segretario comunale domanda una cosa noi consiglieri al momento della nomina dobbiamo dichiarare di sostanzialmente non avere nessuna situazione pendente o in essere con l'ente per il quale siamo nominati giusto? allora mi domando dal momento che parliamo di società partecipate nelle quali abbiamo consiglieri nominati per gli stessi consiglieri valgono le stesse regole dei consiglieri comunali o no? mi spiego un consigliere della stea o della multiservizi se avesse un contenzioso o una situazione non definita ancora pendente con l'ente comunale potrebbe lo stesso essere nominato? Prego segretario se schiaccia il pulsante vediamo se benissimo adesso funziona prego segretario allora grazie capogruppo grazie per la sua domanda davvero molto interessante la normativa in materia di incandidabilità dei consiglieri comunali ovviamente è una normativa tassativamente applicabile soltanto a quelle fatti specie cioè quella appunto dei consiglieri comunali provinciali e non può essere estesa siccità anche ai consiglieri delle società in house la normativa in materia di incandidabilità è prevista la sedes materie è il testo unico degli enti locali in precedenza un dpr la normativa che riguarda i membri di un cda di una società partecipata controllata al 100% invece il decreto legislativo 39 del 2013 va da sé che stiamo parlando di due normative differenti accomunate da un punto di incontro ben preciso e questo punto di incontro è il conflitto di interessi e gli strumenti per la gestione dello stesso di per sé non potendo applicare una normativa come quella che impedisce al consigliere di essere tale e quindi comporta anche la decadenza dello stesso in presenza di determinate situazioni quelle che ha detto lei ecco ai consiglieri di un cda io ritengo che comunque laddove su si stesse un'ipotesi di conflitto di interessi quindi una decisione ad esempio che abbia effetti diretti e indiretti su un contenzioso che quel membro del cda ha con l'ente comunale e quel membro del cda dovrebbe astenersi perché laddove non lo facesse innanzitutto si configurerebbe un'ipotesi penalmente rilevante fermo restando tutte le altre responsabilità di carattere civile perché comunque parliamo di una società che ha una natura giuridica di una spa quindi il socio azionista unico potrebbe agire con l'azione di responsabilità di quell'articolo 2904 del codice civile in caso di malagestio della società medesima quindi in estrema sintesi in caso di errata cattiva gestione di un conflitto di interessi che fa capo al membro di un cda di una società certamente si configurerebbe si configurerebbe la responsabilità penale si certamente si configurerebbe un obbligo da parte dell'ente comunale di porre in essere tutti quegli strumenti civilistici previsti dal codice civile a tutela degli azionisti che a maggior ragione si dovrebbe esatto dovrebbe esercitare il comune nelle vesti di socio unico spero di aver di aver dato una risposta soddisfacente ecco grazie benissimo grazie segretario prego nessuno deve continuare possiamo andare per l'approvazione all'ordine del giorno chi vota favorevole uno due uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici undici favorevoli chi vota contrario nessuno astenuti quattro uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici com'è no prego prego per l'immediata esecutività sempre undici contro nessuno astenuti sempre quattro grazie sindaco prego lei doveva fare una comunicazione prego e soltanto a chiusura di questo anno che ha visto il consiglio comunale sicuramente impegnato nei vari ruoli nelle varie posizioni ognuno per cercare di dare un contributo per il bene della nostra città quindi volevo cogliere l'occasione per ringraziarvi tutti per quello che abbiamo fatto insieme avete fatto sollecitando anche dall'opposizione e l'amministrazione per cercare di risolvere problematiche del territorio naturalmente ringrazio tutti i consiglieri della maggioranza che con me hanno condiviso un anno fortemente impegnativo per tutte le criticità le problematiche che non soltanto a livello loretano abbiamo vissuto ma a livello nazionale internazionale e quindi grazie a tutti voi per annunciare anche anticipare anche vedo che ne stiamo parlando con l'assessore al bilancio insieme alla dirigente della ragioneria che il bilancio è nostra intenzione facendo uno sforzo molto forte il bilancio di previsione 2023 parlo di approvarlo entro la fine di gennaio massimo la prima di decina di febbraio proprio perché non vogliamo lasciare la città di Loreto e quindi l'amministrazione comunale in dodicesimi che significherebbe bloccare una serie di operazioni una serie di problematiche quindi come ogni anno vorremmo cercare di essere tra le prime città delle marche ad approvare il bilancio di previsione in questo caso 2023 in questo contesto è chiaro che quest'anno sarà un bilancio molto difficoltoso un bilancio perché avremo pochissimi finanziamenti da parte del governo perché come avete sentito 450 milioni sono stati tolti alle amministrazioni ai comuni e quindi chiaramente questo significa dover modulare un bilancio rispettoso delle norme un bilancio serio un bilancio che non va fuori quindi che non ci crea in futuro problematiche dal punto di vista di disavanzi o quant'altro ma è un bilancio che soprattutto deve tener conto delle fragilità dei bisogni dal punto di vista sociale della città dal punto di vista sociale intendo economico e sociale quindi tocchiamo tutte le categorie il primo obiettivo con cui ci stiamo confrontando come amministrazione con la con la ragioneria è proprio quello di riuscire e non non sarà facile e non sarà facile dicevo riuscire proprio perché in questo momento le famiglie le imprese sono sotto pressione per tutte le problematiche legate alle bollette legate a tutto questo sistema che sta veramente mettendo in difficoltà le persone le famiglie le imprese più fragili come dicevo prima riuscire anche quest'anno a non aumentare l'IMU sulla casa perché lo riteniamo un patrimonio importante per la città è chiaro aumentare l'IMU sulla prima casa significa avere entrate fresche nuove perché ormai da 13-14 anni non vi hanno aumentato ma questo è l'obiettivo dell'amministrazione stiamo chiedendo alla regioneria di trovare la forma per rispettare la volontà come dire amministrativa politica dell'amministrazione un altro obiettivo è quello di rispetto ad anno scorso anche qui stiamo confrontandoci con la ragioniera con cui tutti i giorni ci sentiamo insieme all'assessore un po' a tutti gli assessori e all'assessore di competenza è quello di verificare la possibilità di mettere già nel bilancio di previsione anche se ancora non sappiamo se ci sarà e speriamo che non ci sia o quale sarà l'aumento della Tari però quest'anno vorremmo già prevedere nel bilancio proprio per eventualmente dare un segnale di riduzione parziale quindi aiutare se mai ci fosse dagli organismi sovraccomunali questo aumento come l'anno scorso c'è stato del 5-6% quest'anno mette una cifra che almeno si aggiri sui 20-30.000 cerchiamo di arrivare a 30.000 perché questa cifra permetterebbe all'amministrazione di poter abbattere in maniera percentuale se ci fosse quindi non lo sappiamo perché noi approveremo il bilancio di previsione quando ancora la Tari non sarà definita da parte non mi ricordo neanche quale Arera quindi chiaramente però è un bilancio anche da questo punto che su cui noi alla ragioneria stiamo chiedendo cioè su queste questioni che hanno carattere fortemente sociale noi faremo del tutto per aumentare questo spero che ci riusciamo in modo a portare il bilancio un bilancio che non veda un aumento di tasse perlomeno su questi settori poi se parliamo di alcuni servizi a domanda individuale dove la ragioneria ci sta chiedendo ad esempio di vedere aumentare sulle fasce che hanno un reddito superiore 25-28 mila euro alcune situazioni in maniera piccolissima percentuale ci stiamo confrontando però ecco volevo dire questo perché perché in questo caso noi stiamo facendo sforzi importanti per creare le giuste condizioni sul territorio ma sto vedendo che i livelli sovracomunali in questo caso nazionali e regionali stanno poco attenzionando la nostra città io dico che l'attenzionano e questo mi dispiace l'attenzionano non solo e soltanto quando devono fare la passerella perché arriva qualche personalità religiosa civile o militare ecco io credo e su questo noi saremo intransigenti chiederemo al governo alla regione in previsione del 2025 perché il 2025 è domani il 2025 è domani chiederemo quindi dell'anno giubilare e con l'auspicio e la speranza che Loreto diventi un santuario giubilare come è stato nel 2000 dove abbiamo avuto la presenza di quasi 5 milioni di arrivi nei 18 mesi dell'anno giubilare ecco speriamo che venga attenzionato Loreto con il giusto riconoscimento il giusto ruolo ecco era soltanto per evidenziare questa situazione nel bilancio di previsione che stiamo facendo e soprattutto ringraziare tutti voi come ho detto all'inizio per il contributo dato in questo anno augurando naturalmente a tutti voi a tutte le vostre famiglie a tutti i loretani un 2023 che sia come dire più ricco di soddisfazioni e che dia un po' di serenità soprattutto alle persone alle famiglie che hanno più difficoltà che hanno più bisogno e che sono più fragili grazie signor sindaco il capogruppo albanesi ha chiesto la parola per per gli auguri se schiaccia il polsante si però purtroppo non funziona come prima non so per quale motivo c'è il microfono lì prego capogruppo albanesi funziona si allora allora signor sindaco io apprezzo quello che ha detto che cerchiamo di contenere quello che potrebbero essere gli aumenti non condivido il solito attacco alla regione e al governo centrale e lo so però però allora dal momento che sì sono tutti uguali e sono d'accordo con lei però anche noi come comune dobbiamo andare a guardare come spendiamo i soldi certi tipi di contributi a pioggia certi soldi spesi in maniera un po' diciamo forzata come ho più volte evidenziato anche noi dobbiamo fare il nostro poi giustamente ce la prendiamo anche con gli altri però prima dobbiamo guardare nelle tasche nostre era solo per questo auguri a tutti grazie purtroppo sindaco non funziona neanche insomma crocola adesso purtroppo questa sera funziona in modo alternato molto probabilmente bisogna che ritorna la presidente la presidente ma è un problema di no no di dito non è un problema di dito no però no soltanto per la mia non vuole essere assolutamente chiudiamo quest'anno in bellezza il dispiacere è che il capogruppo albanesi ancora penso che dopo due anni speravo che mi conoscesse questo stesso ragionamento queste stesse riflessioni l'ho fatta anche anno scorso l'ho fatta anche nel 2000 l'ho fatto anche quando ero sindaco negli anni passati quindi capogruppo albanesi non può avere sempre soltanto la coda di paglia pensando che chi amministra abbia come dire la volontà di creare problemi ai governi nazionali no chi amministra chiede fondi perché la città in questo caso la nostra città è anche la sua città possa avere finanziamenti che non possono essere utilizzati con il bilancio comunale neanche con le spese che mettiamo in campo lei vedrà che il nostro bilancio sarà un bilancio molto come dire rigoroso molto rigoroso meno che su un punto sul sociale sarà soltanto fortemente rigoroso e chiaramente quando noi abbiamo mandato già glielo anticipo perché glielo ho detto personalmente ma lei molto probabilmente fa orecchie da mercanti e questo mi dispiace perché quando parliamo di Loreto non debbono esserci nessuna contrapposizione tutti dobbiamo essere come dire una spada che va decisa a livello nazionale e a livello regionale come quando si ricorderà che quando abbiamo avuto abbiamo chiesto e non abbiamo ottenuto e io ho attaccato fortemente il governo precedente per non aver finanziato la città di Loreto e le attività commerciali nel periodo covid io l'ho fatto indistintamente e aggiungo che noi abbiamo fatto una richiesta non dei dei mille euro dei contributi che diamo di 4 milioni e mezzo circa già da 8 mesi alla regione Marche alla regione Marche in questo caso per avere la possibilità che un comune come Loreto lei sicuramente lo sa perché non è sciocco non può mai avere questi finanziamenti di investimento per la sistemazione dal punto di vista geologica a questo punto è giusto dirlo di via Sisto Quinto la ripavimentazione nuova di Piazza della Madonna e del Corso Boccalini su queste tre questioni io credo che siano dovranno diventare un impegno di tutti noi per cercare di avere finanziamenti dalla regione utilizzando i finanziamenti o cercando di avere almeno una compartecipazione dalla regione perché chiaramente lo ripeto forse a qualcuno sfugge il 2025 è domani è domani e quindi su queste le battaglie le dobbiamo fare insieme non è un problema di chi governa quando ero sindaco ero sindaco nella passata consigliatura 2010 e c'era una giunta spacca giunta di centro-sinistra io ero sindaco non ho non ho avuto nessun problema a come dire creare un confronto forte sulle situazioni che penalizzavano la nostra città e quindi oggi non ho nessun problema a creare un confronto forte con il governo con la regione quando dobbiamo tutti insieme tutelare quello che dico capogruppo albanesi che la mia la mia di chi governa questa città magari fra qualche anno ci sarà lei con la sua maggioranza quindi io credo che lei non avrà problemi qualsiasi sia il colore politico che governa l'Italia o la regione a dire che se ci sono situazioni che non vanno bene alla città debbono essere affrontate perché credo questo sia un discorso di sana e onesta intellettualità un sindaco deve fare questo quando sarà sindaco vedrà che lei anche questo farà benissimo grazie sindaco io faccio gli auguri da parte del consiglio comunale a tutti quanti i cittadini di Loreto di buon anno ma soprattutto a tutti quanti i consiglieri e tutti quanti i dipendenti comunali che tanto fanno per la nostra città grazie a tutti anche la ragazzina che ci fai infatti vieni a farmi a tutti perché potrei avere sogni a tutti o non abbiamo preso grazie a tutti grazie a tutti